Esprimi la tua vitalità. Neovadiol Rose Platinum da Vichy. Con attivi naturali, la pelle rivitalizzata e gli splendidi un colorito rosio. Neovadiol Rose Platinum da Vichy. Oggi su tutte le creme viso Vichy uno sconto del 20%. E se acquisti due prodotti, il terzo te lo regala Vichy in farmacia e parafarmacia.